Qual è stato il problema più grande per questo parto così difficile? Lei dice le ore che abbiamo passato, non le voglio dire come sono state le mie. No, lo immagino, lo immagino. Guardi, siamo tutti molto provati da questa vicenda. È stata una scelta complicata ed è stata difficile per i tecnici perché la messa in opera di quei 21 criteri che sono molto dettagliati, la valutazione ripetuta più e più volte e immagino poi che in cabina di regia ci siano anche state discussioni. Voglio ricordare che nella cabina di regia ci sono tre rappresentanti delle regioni Ha detto la parola magica probabilmente, chiedo aiuto a Brachino. Parola magica probabilmente è la parola regia.